Oggi questa raccolta firma per chiedere l'abolizione dell'euro, perché? Perché l'euro secondo noi, secondo tutta l'Europa, dalla Francia, dalla Spagna, da Portogallo, dall'Italia, è il primo male della crisi economica che c'è in tutta Europa, perché quando c'è l'euro tutte le aziende, tutte le famiglie sono in una crisi profonda, l'economia in Italia è bloccata, quindi noi chiediamo di uscire dall'euro, cercare soprattutto la solidarietà monetaria e la solidarietà popolare, perché le due cose sono in comune, se noi torniamo alla solidarietà monetaria, se le nostre banche, il nostro comune ricomincia a stampare la moneta e comincia senza pagare l'interesse assurdo di usura alla BCE, quindi si ricomincia a riprodurre il nostro denaro senza dare soldi a nessuno, cominciamo a darli alle banche, alle regioni, ai comuni, anche alle banche che cominciano a circolare di nuovo tutta l'economia, perché l'economia per ora è bloccata, quindi con questo sistema cercare di ripartire il sistema che è bloccato, questo è successo anche in Argentina, ricordiamo dieci anni fa cosa era successo con le banche bloccate, perché allora l'Argentina credeva che il dollaro era una moneta forte, si avevano preso il dollaro e si era bloccato tutto, sono uscite dal dollaro, sono tornate alla propria moneta e ora è già un 5-6 anni che l'economia argentina è ritornata a buoni livelli, noi siamo l'Italia, noi abbiamo i made in Italy, il nostro paese era conosciuto, le nostre imprese, le nostre ditte in tutto il mondo, ora si è bloccato tutto, quindi peggio di così non si può andare avanti, quindi l'euro è proprio un male del nostro Stato. Ma la crisi è più globale, non è soltanto europea, quindi forse non si dovrebbe cambiare il modo di gestire la Banca Centrale Europea anziché togliere l'euro? Ma la Banca Europea chi l'ha messa? La Banca Europea non l'ha messo nessuno, ci sono Mario Draghi, quella BCE, non ha chiesto nessun popolo, nessuna elezione, questo è tutto un tratto, si è fatto alla comunità europea, questi sono lì che decidono le sorti degli Stati, quindi è tutto un discorso che è in marcio, perché da niente sono sorti questo mescanismo che è un male per tutta l'Europa, c'è una crisi mondiale, però la crisi mondiale e l'economia si era bloccata anche in passato, però uno Stato con le proprie leggi e insieme al popolo si riesce ad uscire dalla crisi in questo modo, è soltanto un problema che è gestito dagli ordini bancari di tutto il mondo, quindi è un discorso molto globale, però l'euro è un rallentamento dell'economia dell'Italia. Fino a quanto rimarrete qui a raccogliere le firme? Noi saremo oggi e domani, poi aspettiamo una proroga per il mese di maggio, quindi vediamo come va la raccolta, vediamo se la proroga viene allungata, può essere che tutto questo mese e questo mese noi saremo sia qui a Mazzara sia nei comuni vicini, perché si farà pure la posta settimana a Casselvetano, a Marsala l'hanno fatto, si andrà a Petrosino, Trapani, Alcamo, tutte le regioni d'Italia si stanno attrezzando per fare questa raccolta. Posso dire che sono contento perché da stamattina, anche qua molta gente è venuta da casa perché la cosa l'abbiamo pubblicizzato, si sapeva che c'era questa raccolta film e ci sono famiglie indire che sono venuti qui proprio apposta per venire a filmare perché vedono nell'Euro una situazione a loro sfavore, perché loro avendo una famiglia ricordano come era l'economia nel 2001, cosa potevano fare, cosa si potevano permettere e cosa potevano dare ai propri figli che ora non lo possono fare più.